Ciao amici e Revotech a tutti! Oggi facciamo un'operazione un po' particolare su questo Vivo X90 Pro Plus facciamo il deblut completo, cioè togliamo le app cinesi in modo da poterlo utilizzare come se fosse un prodotto europeo con Global ROM o simile perché comunque sappiamo che lui ha una ROM multilingua comprensiva anche dell'italiano e questo è un vantaggio enorme che ci propone e che ci mette sul piatto la Origin OS che è arrivata alla sua terza versione non perdiamo tempo perché subito dopo la sigla facciamo un ripristino di fabbrica di questo device perché io ho già fatto il ripristino di fabbrica e ho già tolto le app cinesi e l'ho reso snello come potete vedere con anche già l'italiano eccetera, tra l'altro ho appena fatto un aggiornamento ma non c'è il Play Store a ripristino vi proporrà la lingua cinese quindi dobbiamo andare a cercare la lingua italiana per renderlo usabile fin da subito perciò io adesso lo riavvio, facciamo insieme tutta la procedura e vi faccio vedere i file che servono compresa la pick up del Play Store dalla quale poi potrete scaricare tutte le app abbinando il vostro account quindi subito dopo la sigla facciamo questa operazione. A dopo! Bene ricordatevi di venire sul nostro blog ceotech.it a leggere tutte le nostre recensioni scritte e non perdervi nessuna delle nostre news di tecnologia. Adesso abbiamo qui il nostro Vivo X90 Pro Plus lo andiamo a riavviare facendo subito un ripristino di fabbrica formattando anche la memoria del telefono ci vorrà un pochino perché lui ripristinerà tutte le app anche quelle che abbiamo cancellato col The Bloot aspettiamo il conto alla rovescia e procediamo Bene adesso non ci resta che attendere il riavvio io ho salvato delle schermate in italiano, degli screenshot per far sì di poter arrivare al menu della lingua in modo più facilitato adesso lo andiamo a vedere quando si riavvia altrimenti è un termine all'otto, dovete andare con Google Traduttore a vedere quali sono i menu adatti per andare a cercare la lingua italiana è un casino. Io adesso sul mio Xiaomi 13 ho messo degli screenshot, vedete, da vivo così ci sono i vari menu che posso andare a guardare per ottenere la lingua italiana da subito questa è un'operazione preliminare da far subito perché dopo dovremo attivare le opzioni sviluppatore ma prima dobbiamo avere la lingua italiana attendiamo il riavvio, ci vorrà un po', bisognerà poi andare dentro a gestione sistema, lingua, altre lingue e selezionare italiano ovviamente nel menu cinese però l'importante è sapere dove si trova nella griglia altrimenti non lo troviamo lui adesso sta formattando la memoria interna anzi l'ha già formatata e adesso deve ripristinare tutte le app di sistema c'è poi una pk di sistema che potrete andare a reinstallare che adesso metto sul desktop adesso la vado a estrarre dal pacchetto qui che si chiama com vivo.pem è una pk adesso aspettiamo prima di per il pacchetto bene vedete che si è già riavviato ovviamente tutto in cinese adesso dobbiamo andare avanti colleghiamo a internet è connesso schippiamo tutto perché non ci interessano blocchi o cose varie andiamo avanti uso i pulsanti per fare prima in questo caso vedete bastano tre clic ecco io adesso ho le app e il menù tutto in cinese con tutte le app vedete che ci sono preinstallate e sono molte con anche questo centro di controllo che poi viene tolto quando faccio il debloat adesso andiamo nel menu utilizzando l'aiuto dei nostri screenshot andiamo a cercare la ecco qui l'icona impostazioni poi andiamo a cercare dove c'è scritto lingua che è qui poi altre lingue in questo modo è molto semplice perché vedete posso andare a mettere l'italiano subito e ho già l'italiano e riesco già ad agire senza problemi andiamo a mettere la modalità scura sul display vedete i toggoloni mega galattici sono molto molto belli adesso andiamo ad abilitare le opzioni sviluppatore questo non ci serve più lo mettiamo qua opzioni sviluppatore c'è da andare su sistema gestione del sistema infotelefono infoversione cliccate tante volte sulla versione software finché non appare che siete già sviluppatori poi andate qui quindi non dovete neanche tornare indietro siamo in gestione del sistema opzioni sviluppatore le attivate dando l'ok sblocco M è già selezionato lo lasciate tale quale lasciate tutto uguale attivate il debug USB fatto non serve fare altro bene adesso che abbiamo abilitato il debug usb colleghiamo il nostro device al computer tramite usbc e andiamo ad applicare lo script che poi io vi metterò date i permessi vedete consenti altrimenti lui non può agire sul vostro telefono ci sono diverse modalità di debloat allora io vi consiglio il debloat standard c'è anche quello profondo però quello profondo può creare qualche malfunzionamento ad alcuni li ha creati ad altri no io utilizzo quello standard rimarranno alcune app principali tipo wallet o altre app di sistema ma necessarie al funzionamento del sistema ma le app superflue verranno tolte adesso voi vedete queste schermate e questo centro di controllo dove di solito c'è google discover e qua trovate le app principali ecco adesso io apro questo pacchetto ecco vedete che c'è debloatx90.bat bisogna cliccare su questo file due volte e c'è anche il deep il deep è quello profondo ma non ve lo consiglio se poi dovesse andare storto qualcosa c'è la funzione reverse che reinstalla tutto quindi non ci sono pericoli e questo kit è stato sviluppato da uno sviluppatore che l'ha condiviso sul forum XDA e io l'ho preso da lì l'hanno testato in tanti su questo forum ho letto mi sono informato e funziona tra l'altro io l'avevo già usato quindi funziona perfettamente adb ovviamente va installato quindi cliccate su adb per scrupolo se non avete installato i driver adb dopodiché potete cliccare sul debloatx90.bat adesso clicco vedete mi chiede premi un tasto per continuare premete invio e lui in automatico va a togliere tutte le app che non servono quelle che di solito non si riuscirebbe a togliere normalmente quelle che invece si possono togliere manualmente le andate a togliere voi senza problemi poi una volta fatto questo chiudete la finestra chiudete quest'altra finestra staccate il device vi chiede di accedere all'account vivo ma voi dite di no in questo momento vedete che ha tolto tutte le app più diciamo invasive quelle che non si riuscirebbero a togliere poi aprite queste cartelle e andate a togliere manualmente tutte queste app che si possono togliere tranquillamente a mano che non sono di sistema lui però mi ha già fatto la pulizia di sistema bene tolgo anche questa le tolgo tutte tutte quelle che hanno caratteri cinesi anche qui vedete non credo che vi serviranno queste app vado a togliere persino TikTok perché non mi interessa il Play Store in questo momento non c'è ma lo andiamo a installare a parte poi adesso andiamo a mettere l'app di sistema di vivo questa vedete non si toglie ma non succede niente anche se rimane alcune non appare direttamente l'opzione disinstalla ma se andate dentro al menu potrete comunque toglierla qua potete disinstallare anche questo poi portiamo tutto nell'altra pagina le app che sono qui trasciniamo tutto l'app salute si può togliere ma potete tenerla perché comunque è tutta in italiano vedete? quindi io se fosse in voi potrei anche scegliere di tenerla l'app meteo la potete tenere perché comunque in italiano anche l'app meteo vedete? è stata tradotta benissimo mentre invece possiamo togliere altre cose tipo questo adesso abbiamo questa pagina unica pagina vedete che non c'è più neanche il centro di controllo sulla sinistra andiamo ad abbassare un po' la luminosità e adesso andiamo a inserire tramite cavo USB le nostre due APK il Play Store e l'APK Vivo PEM che ci serve per entrare poi nel nostro account vivo nel caso ci serva per far valere non so la garanzia sull'acquisto e altre cose ovviamente bisognerà poi abbinare un numero di telefono o una mail nel caso quindi adesso abilitiamo l'ingresso dei file apriamo la memoria interna trasciniamo dentro le due APK chiudiamo stacchiamo gestore file che è presente andiamo a prendere le due APK ecco intanto andiamo a installare questa app di sistema che è importante allora per installare il Play Store sul Vivo X90 Pro Plus non basta scaricare la APK nella memoria interna ma bisogna utilizzare un programmino tipo questo adb app control io ho utilizzato questo dopodiché voi dovete andare su installa qui dove c'è scritto installa prendete la APK anzi la andate a selezionare seleziona poi andate a prendere una di queste due ecco poi fate apri e lui la installerà direttamente sul vostro device e infatti l'abbiamo poi ritrovata sulla home qui voi dovete fare accedi aggiungete un account sempre se si riesce a scrivere ecco non si riesce a scrivere perché non c'è nessuna tastiera quindi bisognerà scaricare anche una tastiera Gboard e andarla ad installare lo facciamo subito scarichiamo sempre nella stessa posizione su desktop intanto noi ci colleghiamo ecco la Gboard scaricata apriamo il programmino adb app control aspettiamo a che si colleghi poi installa seleziona e installa e diamo la conferma bene dice che è stata installata con successo infatti ce la ritroviamo qui sulla home l'andiamo a aprire così la mettiamo come tastiera predefinita bene poi adesso possiamo accedere potendo scrivere il nostro account dobbiamo dare i permessi all'account quindi teniamo il nostro device principale a portata di mano date i permessi eccoci dentro al nostro play store e da qua potete scaricare tutte le app google mica google che volete vedete che è già tutto attivo aggiornate le app principali che sono queste e poi siete pronti per iniziare a installare tutte le vostre app o fare la copia del telefono fare clona telefono con google però prima dovete installare anche l'app google a parte questa è la procedura per fare il debloat generale quello che secondo me è standard quello che alla fine è il più stabile per questo telefono e vi consente di poterlo utilizzare come se aveste a disposizione una versione europea ma con l'origin os3 in più che è tantissima roba a livello di funzionalità e di fluidità generale detto questo vi saluto spero che sia stato utile questo video e ci vediamo prestissimo qua poi chiudete e potete cancellare le app o metterle tutte in una cartella perché potrebbero sempre tornare utili un saluto da Pasqui ci vediamo prestissimo e soprattutto RevoTech a tutti ciao iscriviti al canale Grazie a tutti.